Andiamo! Non so se non ti senti, non so, non so... Non so se non ti senti quando farò la parola. Non so se non ti senti la parola, non so se non ti senti... Non so se non ti senti l'avvio. Non so se non ti senti. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. grazie a tutti. vai a tutti. a tutti. vai a tutti. vai a tutti. vai a tutti. vai a tutti. 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 vai a tutti. 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 . a tutti. a tutti. vai a tutti. 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 . a tutti. a tutti. . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. . . a tutti. . . Sì! E! E! Giusto! Ragazzi, riusciamo la scusa, quindi! Vieni! 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 Faccio! Guarda in cura! Lascia, lascia! In un passo! Vieni! 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 Guardami! Vieni! Vieni! Occhio! Vieni! 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 Grazie a tutti. Arbitro! Arbitro! Arbitro dietro 3 metri! Fallo? E fallo? No, è andato a raffreddare! Qua va bene! Viva! 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 0,1! Marco! Vieni! Vieni! La coscia Lughe, vai! Ma come è il nostro? Bravo, direttore, bravo! Direttore, direttore, guarda anche qui. La piccola, la partiera di Olmi che mi tiene questo. Ha fatto Olmi, Baggio, tutto l'ha fatto. Siamo in due? Oh, non fermarti! Viva! Dai, raga, dai, qua, qua, Fabio. Siamo la testa, fila, raga. Grazie, grazie. No, mi trovi. Sette parti siamo. Noi siamo più uno, noi, eh. Ma dove siete più uno? Vieni, vieni, vieni! Fabio, Fabio! Dai, Fabio, dai qua, Fabio! All'è, all'è, all'è! Ma chi ci può? Dai, dai, andiamo, Fabio, Fabio! Andiamo noi, andiamo! E' questo è il posto di noi! Allora, stai qua, stai qua, stai qua! No, che palla di merda! Dai, dai, segniamo i uomini, oh! Per te... Calma, calma, ora! Ma no! Dai, stai zitto! Prima ede! Fabbio, Fabio! All'è! Subito, subito! Torna! Torna! Torna al posto di balone! Porto di... Se vuoi, se vuoi, se vuoi! Vieni, no! Ti pare si! Dai, si! dai 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 lascia questa cazzo di palla vogliamo segnare non corriamo riprendita 2 o interviste? ok, bisogna dire la prop expression ma con questo che è finito il partito lente un occhiale ma da m One d inspire a giocare sono due minuti dai 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 manava mano ha deciso Paolo qui uguale scala cara ci sono Scala! Scala, scala! No! Dai, dai, Piero, stiamo lì, stiamo lì, dai! C'è un dono e poi due, perciò le due. Dai, se lo me lo dite, che non ci sono i 10. Dai, dai, gira! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Dai... Dai, dai... Dai, dai... Dai, dai... 化quatoria! Dai... No! Vi... Dai, da la comunità. Vai dentro, dentro, dentro tutti. Vai, vai, vai! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Prova, prova! No! Dai, 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 inzio! Non puoi! Vieni, non puoi! Gira, dice! Brava! No, cazzo! Oh! Dai, oh! Dai! Ragazzi, due parole per Galasport. Partita difficile, intensa nel secondo tempo, avete dato molto. Raccontaci un po'. Onestamente siamo partiti proprio piatti piatti, ci hanno preso in contropiede loro, nel senso che erano messi bene in campo, correvano, recuperavano. È stata la fiera anche un po' degli errori, onestamente. Secondo tempo ci siamo svegliati un pochettino, è stato più bello secondo tempo, più combattuto. Però diciamo che comunque il risultato è stato a nostro favore, nel senso per un gol, però comunque se finiva pari, non c'è niente da dire, onestamente. Complimenti a loro, ecco. Bellissimo primo tempo, molti pali e un po' di confusione alla fine. Il problema è l'ossigeno, quando si arriva in difetto di ossigeno a fine partita alla nostra età, succede che regaliamo dei gol, se di fronte a una squadra che comunque gioca a pallone sa come giocare alla palla e prende il gol. Lo erano un po' di più di voi rispetto a voi. Tra l'altro lo erano un po' di più di noi, noi eravamo in 7 contati e al 20 di luglio, quando è, diventa complicato correre così tanto. Quindi, però, complimenti agli avversari che se ne sono meritati. Chi vince ha sempre ragione. Bellissima partita per il terzo e il quarto posto. Grazie ancora, buona serata. Grazie a voi.